lave- sto spaccato sta bruciando angela mi scappa la pipì mi scappa la pupù mi scappa la pipì papà la frequenza per qualcosa io do oltre il tuo io vado io sono oltre il ritiro quando renderizzo vado oltre il limite io sento ti faccio rientrare fino a qua a 3.4 però a 3.7 e la mia è arrivata anche 4 sto andando via ok io amica aspetta i 4 diamanti che fa la pipì che fa la pupù e valla qua angela valla qua no a angela gli scappa mica a me pure a me è un po' un goccino di subito devo cambiare l'acqua e pesce devi cambiare l'acqua e pesce faccio una piccata che non do tutto il tevere guarda dopo non la fai e il dio cami fa si avvelena tutto tanto è più avvelenato da così sto cazzo di fiume mica è stata più amata del tevere che dentro al mare mica no pure durante Roma tutta Roma però vabbè tante volte sono andato vicino ai depuratori e una puzzata e merda che taccurava eh lo so eh c'è qui assinico il depurato amore io quattro di... ah ecco maaaalle scappa la pipì scappa la pipì scappa la popò quando andavo a scuola adesso inverno no? poi passavo vicino ai depuratori per quanto a merda c'era la canna la porta madonna lo evaporava ahahahah nooo scappa la pipì guarda che davvero eh si si ci credo ho una puzza di merda di vacca che taccolava proprio peggio dei bezzi, quella dei bezzi profuma vabbè le bezzi non è anche la tua sua mano la paleta la vivo su per pallone ho già fatto una cagata ci lo so ma infatti ti chiedo dove era Omega era a cagare mi fa solo accesso arrivo scusa amore tu non ci fai a cagare si ma non faccio sapere l'intero mondo con le galli tu mi hai chiesto tu stavo io stavo a cagare non capito non capito guarda che sei forte posso farmi salire pure da me però porco dio tanto forte no perché il gambrico si lascia per terra vabbè ma quella è la pugnetta che io favo vabbè arrivo dietro di te Omega chi arriva? coso? aspetta un po', aspetta un po' aspetta un po' chi è? bravo, chi è? posso fargli il letto volendo se gli fai il letto? non è male che lo fai oh però mi raccomando cambiglielo le lenzuola eh scuola faccio il letto aspetta faccio il letto aiuta ogni volta aspetta che me sta a più no 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 mortazia sua ma guarda tua stava ho fatto il letto ho fatto il letto ho fatto il letto molt bravo mortazia sua la vita riuscire la cazzo stai qua io sono morto su cazzo tira forte cazzo sta stupendo dani eh ma non c'è il modo dei passati facilmente no ho spaccato la ponte per dare blocchi cazzo dai cazzo dove dai cazzo dai cazzo arrivo ma la pazza di gialli eh ma tocca mazzali dai cazzo arrivo 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 vella v f v v la domanda il muore pesca la cazzo il cuore mi chiamano spavento omega che lì qua in mezzo se fosse tipo un blu per l'uomo e non è vero e non è vero e non è vero cosa no 4 4 per il sindaco via via possiamo sentire proprio che si chiapetta do cazzo apro sacco porca madonna la distanza di rendere per quanto sta a sfruttare senti senti il computer come fa giu 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 sembra una macchina da fuori ahahah oh dove 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 eccoli ecco c'è anche l'altro dietro no, non fa cosi quella fa cosi ma famo come oggi Dani cosa? dai dai famo oggi come cosa? l'ho mai cattivo dai no no oggi l'ho mai cattivo dai 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 papà è un bambino mortassia tua eh dicevo ho tre esmeraldi io vorrei ti fa fare la schienetta forca madonna ho tre esmeraldi amore cosa non è che ti fa qualche pugneta no? io farebbe more non so dove stanno andando in realtà c'ho blu dietro che come c'è il blu dietro porto dio blu oh dio blu oh dio blu eh stanno andando in base va stiamo sti due esmeraldi e poi andando in base ho capito stiamo sti due esmeraldi e andando in base eh l'ho capito io l'immortassia tua l'immortassia vai 5 io rientro io ne ho 0 sono io aiuto blu dietro aiuto aiuto al massimo è riparlito eccolo guardali guardali blu falli vieni falli falli aspetta un attimo che vieni a casa oh bravo un'altra 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 un po' di blocchi di ossidiana solamente una volta clicca clicca solo una volta grazie percorso grazie la parola la parola la parola la donna me troppo arco chi è caruso dall'alto così come un pesante e non bussare ahahah vabbè come un amaro a farlo costoppiamo alla java tattata morto la mai non non aiuto e portassi a scuola la nata già la fama una sedici diamanti un morito caccia cacca cacca porca madonna chi sta a venire aspetta un po' qui e dove vieni a casa COSO PENGRE guarda me il culo guarda portassi a scuola aspetta cosa che ti viene un'altra bomba tant'è stato con la bomba oh chi è? io 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 aiuto aiuto dove vai? dove vai? c'è un blu che è arrivato dai blu ma sei scemo non ti sei girato max ma non ti ho corpito io eh pace è rosso è rosso è rosso d' propaganda dove sta sud to tu 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 ti dai ja andi! urlando! vaffanculo e va caca tu fana bisciata ah! ta 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 be' urca madonna nananana 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 oh ma non ti è pianto umore no eh! urca madonna ah 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 o te faccio vedere io America buon America oh! arriva un blu aceto un blu aceto parca dio arco all'arco oh dai! non hai detto fireball velle aspetta aspetta parca dio parca dio non spaccate il ponte che arrivo io da dietro con gli smeraldi ok bene bravo uccidilo uccidilo max uccidilo come fa a uccidilo? eh! da lì senso mi picchia, mi picchia, mi picchia anche attraverso i blocchi no! mi picchia, mi picchia lui no! vero max interventi aiuto no! rega ma siete stupili borco di dio perchè? ma mi sto aiutato ma ma morto pure io ma donna etica sto ponte del cazzo ma capito tutto? Sto laggando Sto laggando Figurate io Che cazzo c'ho che sto laggando Che cazzo Dove è rosso? Per cazzo è rosso lo devo buttare giù prima tua amica Dove cazzo là? E' arriva un blu Un regalo sentite? C'è un regalo No Dio cane perché ci ho crashato Ma come si crashato? Ero crashato da Minecraft Lo stai root in blue E' qua avanti E' caato giù Ecco andato giù arriva del centro Oh Che cazzo tira? Del centro Che cazzo tira? Tutzia Cazzo a termica io ho fatto a darmi è il vignatone è lo zoccolone che cazzo fa i pesci? ho messo un po' d'acqua ho messo minchia sono qui che flutuo io nell'aria portassi a tua no c'è un blu eh ma pure tu sei un fenomeno ho quattro smeraldi io cani sei un fenomeno ah sta cadendo aiuto sono qua sotto non riesco più a salire oh stanno rompendo questa acqua fatemi sistemare l'acqua guardia mia oh porca madonna ho morito guarda un po' cosa guarda qua guarda qua è morto guarda che si è salvato questa mignota una mignota cosa faccio vedere io cosa faccio vedere io cosa faccio vedere lì c'è un blu sopra c'è un blu sopra ma io lo faccio vedere io come c'è stato qua guarda qua guarda qua il bordo qua il bordo per camminare ragazzi eh ma sei scemo ma sei scemo con tutto il tempo che ci ho messo per sistemarla guarda che la ripiazza adesso vai a prendere un esmeraldo adesso vai subito ah non è una smeraldi non costa più smeraldi adesso l'acqua costa oro oh comunque qualcuno arriva oh blu sopra eh bomba bomba non fa me la bomba 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 vicenda l'acqua come lagga no ma lagga lagga server lagga ma fk bomba sono stati fk per un cazzo c'altra bomba un morito caccac ciaccac chica caccac via che c'è dietro dare parare ja tor waghi d'uccide un morito c'è 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 madonna puttana nananana ti te che a pote faccio un culo come entro nananano nonno regà perchè sto allargato? e anch'io l'ago un po' dove sei? quanti fps sta a fare? non lo so adesso apro porco dio sto a fare 31 fps bomba grazie a piazza di qualche troppo ma è bomba ma chi è? eeeh no è dalla torre di isola di diamanti che spara e non so chi sia però un blu, un blu, un blu, un blu, un blu sopra dal centro arriva un blu sopra dal centro arriva a noi il culo e' un po' vai, io, via oh, grazie delle smeranze di due diamanti eh la troia aia, ho bussato ho bussato ma ho bussato pure io aia ho bussato giù ahahah un morito cecececece ok io ho fatto tutto il corridoio per camminare nooo son caduto e' caduto si vuole quattro smeranze ciao 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 io ho bisogno di oro eeeh ma cosa è che non abbiamo, non abbiamo ma io scusate ma l'oro e dire le cose perchè le tenete nell'ender c'è stendetele qua scusatemi ho portato l'oro si si infatti mi sarebbe per comprare adesso il piccone ho portato l'oro ok l'ho rimesso qui dentro l'oro aia, uno dato dai brutoni da affetti eh grattatela e' qua guarderà c'è tutto sta sopra un frattaccio lascia buon niente d'acidma oh c'è una spaccoletto eh se mi metto sopra mi metto sopra ehm max hai raggiunto piazza acqua Mauro, porco Dio Mauro. Arriva l'acqua in base. C'è l'acqua in base. C'è l'acqua in base. Aiuto, c'è l'acqua in base. C'è l'acqua in base. C'è l'acqua in base. Scusate, adesso si stiamo. Sistemo un attimo solo. C'è stata una piccola perdita. C'è una piccola perdita, ragazzi. C'è stata una piccola perdita, ragazzi. C'è stata una piccola perdita, ragazzi. Un attimo. Ecco solo fuori io. Minchia. Ecco, non c'è più l'acqua adesso. La perdita è stata. No, non è stata l'acqua. È stata, è stata. È stata non sistemata. Tu qui, ancora c'è dentro. Mario. Questo è il ciclo. Questo è il ciclo. Sto chiedendo. Ok, ho chiuso una parte e ho chiuso la qua. Da qui ho chiuso e adesso devo vedere le altre parti. Un attimo. Le non d'azione. Le non d'azione. Le non d'azione. Aiuto. Allora, ma l'arma, ma l'arma, ma l'arma, ma l'arma. Vieni. Vieni. Sto spaccato! Tani, se c'è spaccato nel letto per colpa tua, giuro, ando su porfa, io te ammazzo. Vai! Ti sto passare. L'ho ucciso, ragazze. Carta! 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 Allora, sto sistem... Vi lasciate sistemare la perdita un attimo. Ma ci c'è mai il cazzo. ma il sistema la sua tipo da sotto e fatti stava sopra bisogno di blocchi che non ho mario la perdita anima scatto non c'è 4 ok non c'è più da perdita verde più ok non c'è più verità per favore grazie orca madonna che buzzi basta bussare bussatore sotto questa luna piena e la tica serena per favore per favore che stai cazzo per favore ma te la città tu ma 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 ma donna la tenti l'aria senti l'aria la tenti l'aria mo' procio cazzo stai fallo sto grudigato tu te sapi com'è che faccio io oh portai su le scale boh che vuoi le scale mo le metto mo le metto mo le metto mo le metto però tu porti i blocchi perchè sennò non c'è sa niente io credo oh me so bucato me so incastrato me so incastrato oh spluri un po' forse d'armo rega eh io ne ho fatti due ne abbiamo due di livello ma tu guarda di mortazza tu eh mettete più domani le banane diamanti guardate le diamanti povero perchè per gli sani non sarebbe tutta questa luna perchè madonna no no aria arriva l'aria te bro perchè mi sono detto con la base la sopa di lana ragazzi fammela 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 in handstone in handstone fammela te la faccio un attimo te la porto su anche madonna aspetta porco fatala in handstone max ahhh ahhh cos'è sto urlo urlo femminile non male che l'hai fatto allora se non sei più vergine no da la città non l'ho trombata dove va l'ultimo dove va l'ultimo dove va l'ultimo dove va l'ultimo ecco ahhh 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 ho tre stack di oro minchia domini che hai visto il fulmine eh no tra poco c'è una tega tam te piglia è una tega madonna tegola che lì all'arco all'arco ahhh dosta dosta che mo' ho ciappo io te la ciappo eccolo qua omega la tua base te l'ho fatta omega la tua base un attimo non uccidetelo non uccidetelo ma come non uccidelo un attimo un'idea per uccidere no è una cosa bellissima ho troppo ferro ho tirato ferro e porto varlo un attimo un attimo un attimo un attimo che te dole? è una figlia ok sono pronto per farlo in realtà no ancora però no no fammelo fammi dai però sono pronto dove sta? dove sta? dove sta? beh qua dove? portare i blocchi basta che ne metto uno? si muovete fa il ponte di qui muovete 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 c'ha l'arco c'ha visto brighate ma che t'ha visto? ho un'idea fermo fermo guarda 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 non ci casca tenetelo sotto pressione vieni di omega e allete porco dio vieni magna e ci magna porca madonna porco dio guarda per terra che c'hai ancora lì? ma chi che c'ha? chi c'ha? tu qui dove sta? tira te qui no grazie 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 dove sta? ma sono due i blu non è uno sono due dove veranno? uno sta a base comunque sarà da noi ovviamente in base non c'era nessuno uno è andato via arrivederci allora 18 kill 3 final 2 letti eccolo eccolo eccala c'è il smeraldi faccio l'endertar e lo kill lo rush wow 8 smeraldi wow è un generatore all'arco anche lui fate l'armatura Dani se come? con le smeraldi si è un diamante chi si? un attimo permesso 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 tranne la spada non ho io devo farmela adesso eccomi vado a ucciderlo vittoria è morto è suicidato 18 kill 3 final kill e due denti noo che adesso piove è arrivato l'acqua ciao